Il grande isolamento dell'aggiunta regionale nelle stanze, negli uffici. Ma come si fa a governare senza aver contatto con i cittadini? Ma non solo per avere la percezione di fornè e la vita della gente di carne rossa, ma perché se non vai nei territori a vedere con i tuoi occhi le cose, se non vai sui cantieri, se non vai nei quartieri, se non vai sulla mitonania, non ti metterai mai conto della realtà vera. Allora, noi ci rivedremo perché continueremo a lavorare così in mezzo alla gente e ci rivedremo perché noi dobbiamo avere il coraggio a Caserta di realizzare un sostio. Ve l'ho comunicato qualche settimana fa in una manifestazione che abbiamo fatto a Caserta. Io voglio fare del litorale casertano, del litorale Domizio, la Romagna del Sud. Io voglio fare del litorale, alle ragazze e ai ragazzi, non dobbiamo avere un'idea per il futuro di questa terra. Ma voi avete capito che cos'è che veniva o mai nella faccia così? Arrivano sei giorni turisti d'estate. C'è tutta un'economia che regge su quei terreni. Il litorale Domizio è dieci volte più bello del litorale della Romagna. Noi abbiamo la Reggio alle spalle, abbiamo San Leggio, abbiamo Magopatria, abbiamo Pozzuoli, abbiamo l'erogastronomia eccezionale, abbiamo gli anfiteatri. Che cosa ci manca per diventare noi da domani? Ci mancano le organizzazioni, ci mancano le infrastrutture. Allora voglio comunicare, io non sono interessato a farmi clienti. Io voglio fare una cosa, ma la dobbiamo fare. Voi sapete se te una dice che si fa, si fa così.